Buona domenica 28 gennaio. Gesù insegna con autorevolezza, come uno che ha autorità, non come uno che ha il potere di insegnare formalmente. Questa è la modalità di insegnamento dei formalismi esemplificati nell'insegnamento degli scribi, ma Gesù agisce anche con autorevolezza, è immediatamente riconosciuto dal male, dagli spiriti impuri, lo riconoscono e lo temono, lo riconoscono e lo temono. Capiscono che rovinerà il male perché Gesù testimonia attraverso la sua vita e il suo insegnamento, inscindibilmente legati vita e insegnamento, che è venuto a portare un messaggio nuovo, la liberazione dell'uomo dal male che abita in lui e che è all'insegna delle divisioni, delle prepotenze. Il male riconosce immediatamente la cifra del bene, la presenza di Gesù è immediatamente riconosciuta e coloro i quali sono in quella sinagoga sono presi da stupore, quasi da timore, timore forse reverenziale. Chi è costui? Vedete, il male lo riconosce immediatamente. Coloro i quali sono presenti, sì, sono presi da stupore, ma non lo riconoscono. Ma vediamo il angelo di oggi che ci porta ad un invito a seguire Gesù, il suo insegnamento che è all'insegna della autorità, che deriva da Dio. Gesù, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, la parola che si è fatta carne, insegna con autorità. Non ci vengono descritti i contenuti di questo insegnamento, li troviamo nella buona notizia, che testimonia la vita di Gesù, che è fatta anche del sacrificio di se stesso per donarci la vita eterna, morte e resurrezione, conversione radicale dell'esistenza umana, all'insegna di un insegnamento che è autorevole, perché incarna l'armonia tra il dire e il fare, tra la vita e l'insegnamento. Al centro vi è la testimonianza e noi siamo chiamati a essere testimoni. Solo così potremmo insegnare col senso profondo di un'autorità che non deriva dal nostro egocentrismo, ma dalla nostra disponibilità ad aprirci al messaggio di salvezza. Questi sono gli insegnamenti che possiamo ricevere dal Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Marco, in quel tempo Gesù è entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli iscrivi, evidentemente. Coloro i quali erano formalmente destinati all'insegnamento, interpretare la legge, non avevano autorità, avevano il potere, questo sì. il potere formale di insegnare. Gesù non ha bisogno di un potere formale per insegnare. Testimonia semplicemente il nuovo messaggio di salvezza. Vi è un nuovo messaggio che Gesù insegna testimoniando attraverso la sua vita, attraverso le sue opere. Ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo, attenzione vi è anche qui un passaggio molto bello, illuminante. Siamo nella sinagoga, nel luogo sacro, ma anche lì vi è un uomo posseduto dallo spirito impuro. E questo ci porta a rivedere criticamente il nostro modo di porci, perché il male può essere ovunque, anche nella sinagoga. E il male è il primo a riconoscere la presenza di Gesù. Infatti quello spirito impuro grida, che vuoi da noi? Gesù Nazareno. Lo riconosce immediatamente? Se è venuto a rovinarci? Capisce quello spirito impuro che Gesù è venuto a liberare l'umanità del male. Io so chi tu sei, il Santo di Dio e Gesù gli ordinò severamente, con autorità e con severità. Taci, esci da noi. Sì, perché nei confronti del male bisogna esercitare una severità, anche nei confronti di noi stessi. Dobbiamo avere autorità e severità nel scacciare il male, che è nella sinagoga, che è intorno a noi, che è in noi, nella nostra esistenza. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda, chi è mai questo? Anche questa domanda è sorprendente. Lo spirito impuro l'ha riconosciuto, quelli che hanno visto l'agire di Gesù. Si domandano, ma chi è questo Gesù? Chi è quest'uomo che scaccia gli spiriti impuri? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. Colgono l'insegnamento nuovo, colgono la potenza dell'agire di Gesù nei confronti della liberazione dell'umanità dal male, ma non riconoscono in Gesù il figlio di Dio. La parola che si è fatta carne. Eh, questo ci deve interrogare profondamente, quanto noi siamo capaci di riconoscere la presenza di Gesù nella nostra realtà. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. È così Papa Francesco commenta il Vangelo di oggi all'Angelus del 28 gennaio del 2018. Gesù insegna come uno che ha autorità, rivelandosi così come l'inviato di Dio si rivela tale. Gesù ha una piena autorevolezza, la sua dottrina è nuova e il Vangelo dice che la gente commentava un insegnamento nuovo dato con autorità. Sì, c'è un insegnamento nuovo dato con autorità, ma faticano ancora, fatichiamo a riconoscere la presenza di Gesù. Siamo molto spesso attraversati dai suoni della propaganda, dagli insegnamenti del potere, che non ha autorità. Ha solo molto spesso prepotenza. Gesù insegna con autorità e severità, rispettando la libertà degli esseri umani e dell'intero creato. Ci ammonisce, ci libera, ma noi siamo chiamati a riconoscerlo nella nostra realtà quotidiana lasciandoci lo spazio necessario per la nostra conversione, che deve partire dal nostro cuore, dalla nostra mente e dal nostro modo di vivere, perché per poter insegnare con autorità, per trasmettere il messaggio nuovo, dobbiamo radicalmente cambiare il nostro modo di vivere. Al tempo stesso Gesù si rivela potente anche nelle opere. Nella sinagoga di Cafarnao c'è un uomo posseduto da uno spirito impuro, che si manifesta gridando queste parole. Che vuoi da noi Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il santo di Dio. Il diavolo dice la verità, Gesù è venuto per rovinare il diavolo, per rovinare il demonio, per vincerlo, per rovinare ciò che divide, per vincere ciò che divide. Questo spirito immondo conosce la potenza di Gesù e ne proclama anche la santità. Gesù lo sgrida dicendogli taci, esci da lui. Queste poche parole di Gesù bastano per ottenere la vittoria su Satana, su Satana il quale esce da quell'uomo, straziandolo e gridando forte, dice il Vangelo. Libera quell'uomo da Satana, libera l'umanità dalla Satana, insegnando con autorità. Il diavolo, Satana, la divisione, che si esprime poi in tutte quelle forme delle prepotenze alle quali assistiamo in questo tempo di tragedia, di guerra, di fame, di carestia, di devastazione di nostra madre terra, ma accogliamo l'insegnamento di Gesù, riconosciamo Gesù e facciamoci trasportare nella gioia e nella bellezza del dono che Gesù ci fa insegnandoci un nuovo modo di stare al mondo. Facciamoci sequela del suo insegnamento. Questo fatto impressiona molto i presenti, tutti sono presi da timore e si chiedono ma chi è mai questo? comanda persino agli spiriti impuri, gli obbediscono. Gesù è il nostro maestro, andiamo a scuola da Gesù, potente in parole e opere. Gesù ci comunica tutta la luce che illumina la strada. A volte le strade a volte buie della nostra esistenza. Ci comunica anche la forza necessaria per superare le difficoltà, le prove, le tentazioni. Pensiamo a quale grande grazia è per noi aver conosciuto questo Dio così potente e così buono. Un maestro e un amico che ci indica la strada e si prende cura di noi specialmente quando siamo nel bisogno e oggi vi è un grande bisogno di ascoltare la voce del maestro, guardare le sue opere, porci alla sequela di Gesù per liberare noi stessi e l'umanità dalla presenza di un male devastante che genera sofferenza, dolore, miseria, carestia. Predisponiamoci pertanto ad ascoltare la voce del maestro, guardare le sue opere e camminare lungo la strada dell'amore, della misericordia e della giustizia. Buona giornata a tutte e a tutti.